Le sue cose le ha tutto il fidanzato in sala d'aspetto. Chi? Scusa, quello è il mio zaino? Sì, sì, un attimo solo che te li passo. Allora, questa è la felpa. Grazie. Sì. E lo zaino. Grazie, mi ho reso tutto. Sì, ho preso tutto. Dà ne la multa. Ma perché? Me l'ha fatta? No, 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 quella no. Credo che saresti la prima al mondo ad aver impietrosito un controllore romano, sì. T'ho quasi rimesso un ginocchio, però l'ho fregato. In realtà, appena sei salita sul bus, ho pensato che sarebbe successo qualcosa. Ma per caso hai un lenzante di capra? Le che? Hai presente la Pietra Lunare di Gandolfi? Quando Giancarlo parla con Guru e si accorge che ha le zampe di capra, ma in realtà è una capra mannara? Landolfi? Sì. Ma che c'entra Landolfi? Senti, io non c'ho altro a cui pensare, non mi interessa quello che stai dicendo. Ok, scusa. Proprio zero. Che compagni a casa? Eh, e dove? Eh, non lo so, questo non lo devi dire tu. Vuoi andare, spiego come si chiama, Manfredi? Sì. No. No. Andiamo a Garbatella. Sì. Averto Radiosa. Va bene. Grazie. Grazie.